Ciao ragazzi, è arrivata la primavera e noi sabato 23 marzo ci troveremo qui al Palasport di Cuneo alle 9 del mattino e dopo avervi offerto una splendida colazione con cappuccio e brioche ci divideremo in squadre e abbiamo l'obiettivo di pulire i dintorni del palazzetto con un'iniziativa che abbiamo chiamato Pulisiet Primavera, spero di averlo detto bene in piemontese. Vi aspettiamo numerosi, l'evento durerà 3 ore, sarà un momento di aggregazione, un momento per fare community insieme e per rendere più bello questo posto di aggregazione in cui viviamo tutti gli anni, eventi, partite e manifestazioni. Quindi vi aspettiamo, vi regaleremo anche una bellissima maglietta di Pulisiet Primavera, ci vediamo sabato mattina alle 9. Ciao! Grazie 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 Grazie